Sì? Hai merlo, non vuole più merlo? Parlami, parlami. E' un bello silenzio che non dice più niente, ascolta. Sentite cosa dicono i passari. Il miele si è spostato. Davvero? Pensate. Pensate. Pensate cosa mi stai dicendo? Davvero? Dove? C'è un altro già dietro? No, forse non è meglio un altro uccello. Mmm. Però, sono un cacchieroni oggi, eh? C'è quasi silenzio, che bello. Ecco, è arrivata la macchina. Ascoltate il silenzio. Il silenzio umano. Interrotto dai mezzi che passano la strada. rilassante, molto rilassante. A presto. A presto. A presto. A presto.